Giovedì sera nella sala conferenza dell'hotel delle Rose di Monticelli Terme, ospiti della famiglia Borrini, l'assessora alla sanità del comune di Montechierugolo Francesca Tonelli ha condotto l'incontro organizzato dai circoli PD della Valdenza sul tema sanità in Valdenza, al quale sono intervenuti l'assessora regionale alla sanità Raffaele Donini, il presidente dell'Unione Valdenza Luca Ronzoni, il dottor Fausto Torelli sindaco di Montechierugolo e Regnale Friggeri sindaco di Montechierugolo, sentiamo ora uno stralcio dell'intervento dell'assessore Donnini e il sindaco Torelli che fanno il punto su ciò che si potrà fare e su ciò che non si potrà fare in territorio montechiese, dove però sono previsti ingenti investimenti per una cifra che supera i 2 milioni di euro. Io penso che noi abbiamo fatto già un miracolo a tenere il punto di primo intervento H12, se volete la verità è questa, perché in una situazione come quella in cui siamo, con le risorse non finanziarie, professionali che vengono sempre meno e che bisogna necessariamente quando se ne ha meno concentrarle dove sono massimamente utili, io penso che avere identificato l'ospedale di Montechierugolo come un presidio nel quale esiste questo servizio H12 sia un buon punto di partenza. Causano dei centri di assistenza urgenze che lavorano quindi su urgenze ma a bassa intensità, cioè dei codici bianchi, codici verdi, codici che vengono sottratti alla alta qualificazione dei pronto soccorsi. L'affluenza è stata ottima, ma soprattutto il grado di soddisfacimento degli utenti ha raggiunto oltre, per quanto riguarda i CAO esaminati di Reggio Emilia, oltre il 93%. Non solo, ma un altro dato interessante, solo un 4,5% delle persone che si sono recate al CAO hanno ricevuto un'indicazione per un'ulteriore visita specialistica. Questo vuol dire che molte delle patologie che si sono presentate hanno trovato una risposta, quindi soddisfacimento e risposta adeguata. Fa pensare quindi che questi CAO che sono appena stati avviati andranno ad occupare un posto strategico anche per quanto riguarda il nostro ospedale di Franchini, dove nascerà il CAO fino a ottobre, primo giorno di novembre, è stato assicurato e sorgerà a fianco proprio del pronto soccorso, quindi il pronto soccorso continuerà la propria attività e a fianco il CAO che coprirà le ore restanti. Altra notizia che è stata data, molto interessante, sono i livelli di efficienza del servizio di energia in urgenza, cioè del 118. Rispondono a parametri molto soddisfacenti, i tempi medi di intervento si aggirano attorno al 13 minuti quando il limite massimo previsto per legge sono 18 minuti. La regione ha finanziato con 1.700.000 euro la sistemazione della zona del Franchini che diventerà sede di Osco, a cui faranno seguito poi i lavori di sistemazione degli spazi per dar vita ai 20 posti letto dell'Osco. Grazie a tutti.